Secondo lei perché il centrosinistra ha perso così tanti consensi negli ultimi anni, nel mezzogiorno, qui in Campania? Tra l'altro si sono persi feudi storici della sinistra come Pomignano d'Arco, Castellammare di Stabbia. Secondo me un passaggio innanzitutto è quello di aver inseguito un po' Berlusconi con il berlusconismo. Cioè nel submodello culturale che gli va realizzando in questi anni, l'apparire al posto dell'Ess, il consumatore universale, non più il merito ma le appartenenze. Poi c'è stato un evidente crollo al sud soprattutto sulla questione morale. Basta vedere quello accaduto in Abruzzo, in Campania, in Basilicata, in Calabria. E poi una classe dirigente all'interno del centrosinistra che in parte è refrattare a un forte rinnovamento sia nei contenuti che nei programmi ma anche nelle persone. Lei parla di liste pulite, sono stati diversi però i casi di candidati in Campania, le ultime regionali, che sono stati eletti. Alcuni condannati con sentenza di primo grado, qualcuno con sentenza definitiva e altri sono inquisiti. Tra l'altro un candidato condannato in primo grado per associazione camorristica è stato eletto con oltre 10.000 voti. Cioè il consenso, la gente, la democrazia, come si risponde? Questo problema è molto serio, i partiti dovrebbero assolutamente impedire la candidatura di queste persone, ma io sono ancora più preoccupato perché con queste riforme che la maggioranza sta portando avanti, il processo breve, il legittimo impedimento, la legge sull'intercettazione telefonica, a breve i processi nei confronti di alcune categorie di delinquenti non si faranno più.